Buongiorno a tutti i miei notori, scusate a te, scusate a te, scusate a te, scusate a te, scusate a me, scusate a te. A disposizione è il mister Tappenis, Verozzo, Cirillo, Tuccia, Pascarella, Capezzuto, Santarino, Rega, Cantore e Mascoro. Dirige la gara il signore Andrea Tursi di Vantano, coltivata dell'assistente, signor Signore Perlcioponinimano e adesso Scarchi Buarezzo. Dai che è di seguito 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 Dai che è di seguito